Vaca André va dentro a cercare un altro cross, pallone per Defrae, c'è la torre per Messino, la presa, la ripresa Messino, la ripresa Messino, è 2-1 per l'Inter, è 2-1 per l'Inter, non è possibile, è l'uomo della Champions, è l'uomo della Champions, Mattias Messino, 2-1 per l'Inter. L'ultima parola degli uruguaggi, sempre loro, sempre loro, l'ultima parola nel calcio, è la loro, hanno un cuore differente, lo capiscono, l'artiglio che graffia, che lascia il segno nella storia dell'Inter, questa è la storia che si ripete. E' il 22 maggio o il 18 settembre, ma l'ha presa Messino, c'è Nicola Berti, però io mi sembra che te l'avevo detto, la riprende, la riprende, la riprende Messino sulla torre di Defrae, sta succedendo il panicomio più totale a San Siro, più totale a San Siro, è 2-1 per l'Inter. Il graffio che aveva portato l'Inter in Champions serve per rimarcare il territorio, questo è l'uruguai che quando va in campo con tutto se stesso.